Una nona giornata di Superlega veramente particolare perché l'unica sfida è quella che si è giocata tra Padova e Milano, le altre tutte ferme purtroppo per contagi Covid. Alla fine Milano soffre, ma vince e si prende due punti, trova la sesta vittoria di questa stagione e insegue Perugia e Civitanova. È un campionato difficile per noi, però il bello di questa squadra è che ogni volta ripartiamo il martedì con ancora più voglia e quindi ripartiremo nel stesso modo, senza guardare in faccia a nessuno, ci proveremo. Ti colpisce questa cosa che siete l'unica partita a giocare, le altre sono tutte ferme purtroppo per Covid. Mi colpisce, mi preoccupa, cerchiamo di resistere, ai ragazzi dico ogni giorno facciamo grossa attenzione e la fortuna è essere qui anche ad allenarci e a giocare.